si conclude un anno importante per i vini abruzzesi e quindi tempo di bilanci per il consorzio di tutela dei vini di abruzzo abbiamo il presidente valentino di campli che ha voluto presentare importanti dati soddisfacenti anche ai partner sì noi da oltre tre anni abbiamo avviato l'osservatorio sui vini d'abruzzo che è uno strumento fondamentale per poter avere a disposizione dati attendibili su cui fare poi analisi e costruire progetti di lavoro in termini di comunicazione in termini di riorganizzazione eventualmente di sistema e su cui oggi noi basiamo tante attività di promozione che programmiamo insieme a alcuni partner per progetti che si svolgono in italia in europa e con altri per progetti che si svolgono fuori dall'europa in abruzzo abbiamo una partnership ormai da anni con alcuni consorsi di tutela anche di altri film sia del mondo del vino ma anche di altri filiere come l'associazione massicana produttori patate come l'olio pretuziano ma anche nel campo del vino con il consorzio colline terramani con il consorzio tullumo con il movimento turismo del vino e poi a livello nazionale anche con il consorzio dei vini della barbera e all'evento internazionale con il consorzio vini della mancia in spagna e con altri due consorsi di altri settori in grecia questo ci ha consentito di poter questo approccio aperto e diciamo strategico di programmazione di partire dai dati che ci fornisce l'osservatorio per poter programmare a livello internazionale e chiedere l'accesso a fondi comunitari che ci hanno consentito di moltiplicare in modo importante le nostre risorse per poter fare quelle attività di promozione che oggi ci hanno portato a questi risultati risultato per tutti insomma cresce l'export abruzzese cresce l'export abruzzese in un anno come il 2021 ancora in pieno covid di oltre 15 milioni di euro superiamo la barriera dei 200 milioni di euro di export 15 milioni sono una cifra molto importante per un settore è come dicevo poc'anzi importantissimo perché 15 milioni di euro di maggiori vendite per magari un'azienda metalmeccanica piuttosto che di altri settori che si insedia o che abbandona il nostro territorio sono rilevantissimi e mettono in subbuglio l'intera regione questo avviene in un settore dove invece sono tante piccole realtà che insieme grazie al consorso di tutela grazie a un mondo che si è saputo negli anni organizzare in un periodo così difficile è riuscita a portare in abruzzo 15 milioni di euro di liquidità che altrimenti non sarebbero arrivate e è una dinamica molto positiva anche con i dati che denis pantini ci ha fatto conoscere sulla riposi sul riposizionamento nei nostri vini all'interno della grande distribuzione italiana in cui purtroppo da tanti anni il nostro montepulciano abruzzo è posizionato ai livelli più bassi e che invece pian piano oggi i prezzi sono aumentati di quasi il 20 per 100 e questo è un importante perché un ritorno di valore che anche dall'italia torna qui in abruzzo bene ed ora entriamo un po nel merito di quelli che sono i dati dell'osservatorio permanente andiamo lì a vedere denis pantini di wine monitor dunque si conclude un anno allora si è tracciato un bilancio anche dell'osservatorio permanente che è stato attivato dal consorzio qualche anno fa e qual è lo stato di salute per quanto riguarda i mercati del vino italiano e poi di quello abruzzese beh diciamo che il vino italiano sta vivendo un 2021 euforico e lo si vede dal fatto che le esportazioni sono praticamente cresciute a doppia cifra percentuale andando a superare la soglia di 7 miliardi di euro che è un po il record storico delle nostre esportazioni ma anche sul mercato italiano c'è un recupero della ristorazione così come con la crescita della grande distribuzione all'interno di questo quadro il vino abruzzese segue un'onda positiva anche in questo caso parliamo di un più 10 per cento nell'export di vino abruzzese dopo un leggero arretramento che c'era stato nel 2020 ma riusciamo così a superare i 200 milioni di vendite all'estero sul mercato interno anche qui diciamo che le vendite crescono in gdo e crescono soprattutto nelle fasce più alte di prezzo e questa è una notizia molto importante per un prodotto come il montepulciano che negli anni invece diciamo così è sempre stato posizionato su prezzi medi più bassi in grande distribuzione parliamo proprio di questi mercati quali sono quelli di riferimento del vino abruzzese? i vini abruzzesi visto che hanno nel montepulciano d'Abruzzo l'emblema un vino rosso molto importante vanno soprattutto in quei mercati dove i consumatori apprezzano in particolare i vini rossi mi fisco alla Cina, negli Stati Uniti, alla Svizzera, al Regno Unito e alla Germania per i vini abruzzesi sono soprattutto quattro mercati e cioè Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Canada a fare più della metà di tutte le esportazioni e sono mercati che sono cresciuti in quest'ultimo anno nel 2021 hanno messo a segno una bella crescita anche a doppia cifra percentuale più di tutto è stata la Cina anche se la Cina veniva da un momento diciamo di riduzione nel 2020 ma quest'anno ha visto crescere l'esportazione di Montepulciano oltre del 30% La pandemia in qualche modo ha cambiato l'andamento dei mercati? Sì, diciamo che ha cambiato le abitudini e l'approccio al consumo da parte dei consumatori di vino un tempo la grande distribuzione non aveva un ruolo molto rilevante con la pandemia è cresciuta anche se adesso si vede un riallineamento verso quelli che erano livelli più normali c'è un consolidamento delle vendite in e-commerce che un tempo invece era considerato un po' la cenerentola di tutti i canali distributivi e invece questo sta crescendo la ristorazione purtroppo è ancora fortemente limitata da lockdown a Singhiozzo e soprattutto in Italia dal fatto che i turisti stranieri che sono quelli che hanno una maggior capacità di spesa sono venuti a mancare diciamo come flusso di arrivo Per concludere possiamo dire ottimo risultato per l'export del vino abruzzese Sì, ottimo risultato sull'export e buon riposizionamento su quell'italiano Presidente, dunque torniamo al consorzio più vini, l'export che cresce, lo aveva già anticipato però è cresciuto anche il consorzio in questi anni? Sì, anche il consorzio è cresciuto grazie alle attività che svolgiamo e che evidentemente i nostri produttori ritengono in linea con le aspettative Oggi abbiamo anche lì superato una soglia, quella delle 200 cantine associate per oltre 4.000 produttori di uve a denominazione della nostra regione e questo è molto positivo anche perché con la rappresentatività che è aumentata le proposte di programmazione che noi mettiamo in campo sono ancora più credibili e attuabili Fare squadra è importante, lo dobbiamo fare sempre di più cercando di cogliere le opportunità che vengono dall'attuale situazione ma anche cercando di capire che dobbiamo sotto alcuni aspetti evidentemente riorganizzarci e lo stiamo facendo anche partendo dai disciplinari di produzione per far emergere un Abruzzo che seppure considerata una piccola regione ha tante distintività e queste distintività possono essere messe a sistema evidenziate ed apprezzate soprattutto da quella parte di consumatori molto esigente molto attenta e che è disponibile anche a pagare di più il prodotto che poi possiamo noi offrirgli Per cui dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo avviato dobbiamo fare in modo che la nostra realtà anche così diversa nell'organizzazione perché abbiamo grandi cooperative e piccoli produttori ma che insieme avendo lo stesso unico obiettivo cioè quello di dare sempre più valore ai nostri prodotti, al nostro territorio insieme riusciamo a far crescere quella immagine che oggi ha ancora dell'enorme potenziale con le attività inuturistiche questo sta avvenendo in modo anche più veloce dobbiamo insistere, abbiamo messo su dei progetti anche in quel canale anche in modo sorprendente abbiamo fatto emergere che oltre 35-40 cantine anglosesi sono molto ben organizzate per fare attrazione enoturistica e questo però all'esterno non appariva perché ognuna lavorava per sé lavorando per sé ma tutti insieme all'interno di un sistema emerge quello che è un territorio enologico dalle grandi potenzialità che parte sicuramente dal Montepulciano d'Abruzzo ma non è solo Montepulciano, non è solo Vino Rosso ci sono autoctoni a partire dal Trebbiano d'Abruzzo ma anche il Peppino, la Passierina che sono già molto accreditati ma possono crescere ancora di più per passare a Cocciola, al Montonico che stanno sempre più, ne stando curiosità in giro e facendo crescere il nostro Abruzzo Tra le attività che si sono svolte nel 2021, considerato periodo di post-pandemia insomma un periodo dove siete stati un po' più liberi anche di girare voi siete stati in giro per il mondo? Sì, siamo stati in giro per il mondo in tante occasioni dal vivo, in presenza ma in tantissime altre occasioni anche in modo virtuale collegati con organizzazioni che sul posto sono state gestite da operatori nazionali e con collegamenti direttamente qui dall'Italia le tecnologie ci hanno aiutato la capacità organizzativa anche in questo senso ci ha sorpreso anche da parte nostra noi abruzzesi quando vogliamo fare le cose ci sappiamo organizzare e quindi anche in questo periodo siamo riusciti a fare cose che non immaginavamo qualche anno fa certamente le attività in presenza sono fondamentali con il Vin Italy Special Edition diciamo che si è ricominciato con un po' più di entusiasmo anche qui in Italia speriamo nei prossimi mesi speriamo che si continui a essere molto prudenti e che questa brutta malattia non ci porti a doverci ritirare di nuovo ancora però l'Abruzzo è stato capace di emergere in questo periodo e potrà consolidare facendo squadra anche i risultati che sono venuti fuori facendo squadra queste insomma sono due parole d'ordine fare squadra è anche dietro di noi nella slide per concludere il futuro, il futuro del consorzio il futuro del consorzio è nella continuità delle attività che sta facendo e nella necessità di far emergere come ho detto prima poi le distintività territoriali e le identità territoriali questo attraverso i nuovi disciplinari di produzione che il Ministero sta esaminando e che auspichiamo vivamente che nei prossimi mesi chiuda il percorso per poter poi fare un lavoro sul territorio che possa dalla prossima vendemmia anche caratterizzare ancora di più quelli che sono i prodotti abruzzesi e i produttori d'Abruzzo